ah beh, sinceramente non volevo fare questo video perché mi sembra un po' inutile mettiamola così me l'avete chiesto in tanti e da poco me l'ha scritto anche qualcuno in qualche commento in uno dei miei ultimi video e ho scritto qualcosa se non mi ricordo cosa tipo penso sia un video inutile da fare però se interessa lo faccio e mi hanno messo un po' di like quindi magari interessa a qualcuno questo video si può creare una discussione interessante tra i commenti comunque la domanda è Nick Walker può vincere il mister Olimpia? secondo me, come ho già detto altre volte, finché ci saranno Derek Lansford e Adi Chopan o Chopan qualsiasi sia la pronuncia corretta la risposta è no quindi elaboriamo un po' questa risposta Adi, Derek e Nick hanno vinto negli ultimi sei mesi le gare più competitive le più importanti e le più competitive per quanto il New York Pro non sia più il Night of Champions di 20 anni fa e per quanto negli ultimi anni non sia stata sicuramente la terza gara per importanza a livello di competitività ma soltanto per Blasone, quest'anno è stato un New York Pro molto competitivo in cui Martin Fitzwater è arrivato secondo non dico mettendo in difficoltà Nick perché io credo che la sua vittoria sia stata giusta però come ho già detto in un altro video se avesse vinto Nick cioè se avesse vinto Martin e Nick fosse arrivato secondo non ci sarebbe stato niente da ridire infatti anche Tyler Mannion nella sua disamina delle pose ha detto che erano molto molto vicini quindi Nick ha vinto però non credo in una maniera ultra dominante poi anche qui ci sono un sacco di pareri contrastanti perché io leggo i commenti vostri leggo commenti di altre pagine Instagram e YouTube ci sono quelli che dicono Nick ha vinto in maniera dominante Nick vincerà l'Olimpia e poi ci sono quelli che la penso in maniera completamente opposta quindi è un argomento spinoso che crea dibattiti perché questo evidenzia quello che penso io che non sia stata una vittoria dominante e Nick per quanto sia un bodybuilder che mi piace molto perché non voglio che sembri che non mi piaccia mi piace molto Nick non è un bodybuilder che mette ad accordo tutti non è un bodybuilder che piace a tutti non è un bodybuilder che quando gareggia mette il punto e mette d'accordo tutti sul fatto che sia dominante che sia perfetto ci sono quelli che pensano minca sì è granitico è un mass monster è così che dovrebbe essere il bodybuilding e quindi 100% sì può vincere l'Olimpia 100% ha meritato i New York Pro e poi ci sono quelli che la pensano in maniera opposta Nick Walker è brutto Nick Walker è antiestetico Nick Walker non doveva vincere a New York Nick Walker non è dominante quindi non è un Ronnie Coleman non è un Philips che mette diciamo d'accordo tutti non lascia spazio a dibattiti quindi io la vedo un po' così penso che a meno che non muoiano Derek e Adi a meno che non succeda qualche imprevisto tipo che Adi non possa entrare negli Stati Uniti a causa di problemi col visto e Derek si faccia male e quindi Nick si ritrovi senza i due principali contendenti al titolo non credo che possa vincere se ci sono tutti e tre che come detto hanno vinto i tre titoli più importanti negli ultimi sei mesi Derek l'Olimpia e anche in quel caso come ho detto in altri video Derek ha vinto però anche in quel caso non credo che fosse stata la vittoria dominante per quanto la gente pensi che io sbavi dietro a Derek e infatti mi piace molto già quando ha vinto l'Olimpia dissi che se avesse vinto Adi non ci sarebbe stato niente da dire così come l'ho detto per Nick contro Martin Fitzwater quindi i miei detrattori quelli che pensano che io sia di parte quando parlo di Derek non è così mi piace più di di Adi sicuramente ma come l'ho detto in quel video se avesse vinto Adi non ci sarebbe stato niente da dire così come avendo vinto Derek non c'è niente da dire parlando poi di Adi è fantastico è ultra definito ha portato uno dei suoi pacchetti migliori in assoluto all'Armo Classic negli Stati Uniti e anche UK cosa hanno in più di Nick secondo me chiaramente una struttura migliore una struttura genetica migliore non hanno pose orripilanti come ce l'ha Nick perché Nick ha il front l'hat spread che per quanto sia migliorato è una posa ancora molto scarsa perché è scarsa perché nonostante alcuni ritengono il contrario ha un tronco più allungato delle gambe che in alcune pose non si nota ma nell'hat spread dove c'è un'espansione della parte alta del corpo avvengono due fattori uno che spancia due che la vita si allarga e aggiungiamoci anche un terzo fattore e tre che aumenta questa sproporzione tra gambe e parte alta le gambe sono troppo corte non è una questione di spanciamento del quadricipite non è una questione che non siano abbastanza grosse le gambe sono troppo corte rispetto alla parte alta del corpo punto cioè se ci fosse una equazione che io non so fare perché sono sempre stato molto scarso in matematica scientifica che attesti questa sproporzione in maniera scientifica cercare di applicarla o farla applicare a qualcuno che vero di matematica per evidenziare questa cosa qui Derek e Adi non hanno pose così scarse hanno pose scarse anche loro ma non così scarse tipo l'absentase di Derek è scarso perché gli addominali non sono pieni quando li contrae hanno un aspetto brutto è l'unica pose in cui lui non sorride fa prima il vacuum e ottiene più a lungo dell'addome contratto perché ha questa posa scarsa e anche Adi ha delle pose così così secondo me tipo alcune muscular e un po' il side tricer perché ha delle braccia così così quindi Nick ha delle pose molto forti posa benissimo però Derek e Adi non spanciano Derek e Adi non hanno pose scarse quanto quelle di Nick anche l'absentase di Nick è un po' una caffonata non hanno la vita larga come Nick hanno la struttura superiore quindi per tutti questi motivi credo che sia quasi impossibile quasi impossibile che Nick vinca l'Olimpia perché Derek non arriva di sicuro fuori forma Adi lo stesso in più Adi è sempre molto più definito di tutti quanti hanno una vita più stretta e un controllo dello stomaco molto migliore e hanno una struttura superiore quindi io la penso così fatemi sapere che ne pensate scrivete quello che volete c'è margine di dibattito e può essere una cosa interessante buona di Grazie a tutti.